Di Polvelli su Rendit, sono molto felice di questa cosa perché come ti dicevo sei una delle ispirazioni che mi hanno portato a intraprendere questa esperienza che spero si porti avanti perché sentirti parlare in italiano è un'emozione perché ormai l'Arcoviz parla solo inglese come è giusto che sia per essere più accessibile a tutti però un pochino manca manca questa fruibilità in italiano. Penso che tutti quelli che finiranno per magari vedere questo video dovrebbero già sapere chi sei, per chi non lo sapesse se vuoi spiegare un po' tu chi sei. Ma allora io sono il fondatore, cofondatore della D2 che è la conferenza più grossa al mondo per quanto riguarda la visualizzazione architettonica. Sono un paio d'anni che stiamo cercando di trovare delle maniere creative di, come si dice in italiano, branch out, quindi di espanderci al di là del realm dell'architettura e della visualizzazione perché sentiamo che comunque la professione si stia muovendo in quella direzione lì. Sono un consulente, lavoro con compagnie freelancers, compagnie medio, adesso grosse anche, mi occupo di business development, quindi gente che viene da noi e dice quali sono le possibilità, come possiamo incominciare a crescere, in che direzione ci dobbiamo muovere, tutte quelle cose là. Non faccio più il designer, mi manca questa cosa, fare i renderings, ho lavorato come marketing specialist e anche come educational network manager per V-Ray, la sezione di cinema 4D, quindi V-Ray for C4D, ho fatto tante cose, adesso per lo più mi sto concentrando sulla D2 perché stiamo crescendo anche come media channel, produciamo un sacco di content che mettiamo online e che speriamo di utilizzare come materiale informativo ed educativo per persone che magari stanno nell'industria o stanno pensando di andare nell'industria perché comunque ci rendiamo conto che dal punto di vista di istituzioni, corsi, robe qua, non ci sia tanta... cioè le istituzioni non ce la fanno a stare al passo col tempo, quindi noi cerchiamo di superire a questa cosa creando del content. Bello, è tutto molto interessante. Introduzione lunghissima, scusa, dovrei cercare di essere più... No, vabbè, che discorsi, siamo qua per parlare con te e quindi ci interessa sapere... mi interessa e ci interessa sapere di te. Però io, per esempio, vorrei sapere quando, come ti sei avvicinato all'Arkviz e che background hai tu e secondo te... Allora, io ti sto per raccontare una storia d'amore che è quella tra me e mia moglie. Ok. Io stavo a Londra nel 2009 e a quel punto là c'era il Crash e mi occupavo... io lavoravo con studenti, facevo renderings per studenti, però avevo la fortuna di avere come studenti gente estremamente ricca, quello era il vantaggio di stare a Londra. Fare renderings per studenti, a un certo punto guadagnavo più soldi a fare quello che a lavorare in un ufficio di architettura, io ho studiato architettura, mi sono dato veramente tanto da fare, una delle cose che mi rende ancora più orgoglioso, comunque con tutto che è stato 15 anni fa, io lavoravo tutta la settimana e quando avevo un buco andavo all'università e cercavo di studiare, quindi l'ho fatto da solo, l'ho fatto a Londra, ho voluto farlo così e ci sono riuscito e nulla, facevo renderings per studenti, ho avuto come clienti il nipote di Bill Laden, lui era uno, poi ho avuto tipo gente che stava, si occupava di olio, manifattura dell'olio, ma gente gigantesca, orifici, gente ricchissima. Ma ad un certo punto riuscivo a guadagnare molto bene. Poi quando ho incontrato mia moglie, lei è austriaca, mi dice io torno in Austria, stavamo a Londra, torno in Austria e dico io ti amo, vengo con te, e lei mi dice ma tu sei scemo perché non parli il tedesco, non saprai cosa fare. Ah sì, conosco il problema del tedesco. Long story short, sono andato in Austria, in Austria non ho trovato lavoro perché lei aveva ragione, quindi mi sono cercato di inventare una maniera per crearmi del cash flow, dei soldi. Ho incominciato ad organizzare dei piccoli workshop, poi la gente che io arruolavo per organizzare questi workshop erano trainer che avevano comunque una presenza grossa online, quindi questa cosa piano piano mi ha portato a conoscere più e più gente. Mi viene questa idea di fare una conferenza proprio per la visualizzazione perché ormai a me piaceva però non riuscivo a trovare lavoro perché il mercato austriaco è molto strano. Vienna sta in mezzo a Czech Republic, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, quindi gli austriaci riescono a farsi dare mano d'opera molto economica da questi posti attorno. E poi non c'era un archivis industry in Austria, quindi creando questa conferenza quello che noi siamo riusciti a fare siamo riusciti a distarare una discussione archivis a Vienna. Quindi gente che non riusciva a guadagnare soldi all'improvviso era passata da 300-400 euro ad immagini a 800-900, poi piano piano si è arrivati a 1200, adesso si è all'incirca a 1500 se si è bravi e stabiliti. Quindi questa cosa è andata a provare che avendo una discussione a tema può migliorare il mercato. Puoi vedere che... No, ma io ti dico, guarda, ora, io lo faccio in inglese perché comunque il mio, il mio, come si dice, la mia audience, non lo so come si dice in italiano, è inglese. Però a me fa piacere incominciare a muovere queste cose anche verso l'Italia perché il fatto che non si conoscano i prezzi dei servizi che si fanno o che si dica che i clienti non vogliono pagare quei soldi è una bugia che noi finiamo a credere. Ti spiego, c'è gente che si fa pagare i soldi che ci si farebbe pagare all'estero anche con clienti italiani, addirittura i clienti italiani grossi che vogliono il lavoro fatto bene se lo fanno fare a Londra perché non hanno fiducia della gente che si fa pagare troppo poco qua in Italia, capisci? E' un po' un gatto che si morde la cosa. Con questo non voglio dire che la conversazione è finita lì, no, si deve incominciare a far capire alle persone che se il dialogo è aperto ed è costruttivo si possono fare cose. Però quando tipo per esempio io provo ad avere un dialogo costruttivo la risposta che mi viene data dagli italiani di solito è quello, allora fammi vedere, non deve essere quella il tipo di reazione quando io ti do un'informazione, il tipo di reazione dovrebbe essere Uno stimolo Sì, se Fabio mi ha detto questa cosa e Fabio non è l'ultimo scemo che sta arrivando sul mercato, fammi andare a vedere effettivamente se ci sono metodi con i quali posso migliorare il mio workflow perché poi alla fine, cioè io non te lo sto dicendo perché ti voglio umiliare, te lo sto dicendo perché se tu incominci a fare soldi ed utilizzi il tipo di raccomandazione o advice che ti do io e te lo sto facendo gratis, immagina quello che posso fare per te quando mi paghi, capisci? Sì, 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 ma infatti è interessante sapere un po' la tua storia, no, perché tu per Via Traverse sei finito comunque in un posto dove non esisteva, tra virgolette, non esisteva ancora un'industria ArcVis e sì, quello che vorrei fare con Renderit non è creare niente perché l'industria esiste e ci sono persone veramente forti in Italia, però quello che manca secondo me è una rete perché io sono stata all'estero tre anni, sono stata a Berlino e sono tornata da poco, ma io non lavoro, vivo in Italia, adesso sono a casa mia, c'è il mio cane che è sotto, però lavoro con l'estero e quindi io continuo a lavorare e a confrontarmi con la scena tedesca che vabbè, in confronto a quella italiana non c'è a paragone, però mi dispiace perché cercando un po' di scoprire come va in Italia faccio fatica. Per esempio oggi, noi stiamo parlando oggi che è lunedì, 19 marzo e mezz'ora fa lavorando ho ascoltato la conversazione che hai avuto con Paolo Zombrini di Engram ed è stata già quella solo illuminante, e ce ne fossero di informazioni del genere. Paolo è una persona che a parlargli comunque ti rendi conto che lui ha macinato, nel senso che io conosco compagnie che costano anche più di quello che si prende Paolo per fare i suoi servizi. Cosa vuoi che ti dica? Qua io a me mi tirano le pietre, ti dicono davvero, io te li farei leggere dei commenti che mi arrivano, email di gente che mi dice sei un impostore. Bisogna cominciare a parlare, penso che il video che hai fatto tu, quello su quanto costa un'immagine, si è stato scoprire l'acqua calda, nel senso che è come un tabù, nessuno poteva dire quanto costava un'immagine, però come diceva Paolo oggi nel vostro video, se non sono i 3D artist a creare il mercato, allora ci freghiamo da soli, perché allora ti dicono, vabbè ma c'è ragazzo all'università che me lo fa con il programma Craccato, mi chiede 200 euro, mi fa 3 interni, allora c'è che mercato facciamo, però è giusto creare, è giusto educare anche i clienti, perché quello anche… Hai detto bene, in realtà il nostro sforzo dovrebbe essere quello di educare i clienti, ce ne dobbiamo veramente fregare della competizione a basso prezzo, perché la competizione a basso prezzo, se loro capiscono che questo dà solo problemi, è buon per loro, perché quelli che offrono rendering a basso prezzo hanno i giorni contati, ma non te lo dico io, questa è una cosa che viene fuori, io faccio workshop per quanto riguarda il business management, più di quanto faccio tutorials per cinema e per V-Ray, perché quello è uno degli aspetti che mi interessa di più, non perché sono interessato ai soldi, perché comunque facendo archivist non diventerai mai ricco, però perché se non si capisce il processo economico dietro il costruire un'azienda, come si dice, sostenibile, allora tu in pratica è come se giri la clessidra e aspetti che i granelli di sabbia cadano tutti fino a che non c'è nulla, mentre tu quello che devi fare è continuare a riempire la sabbia sopra la clessidra, mentre che il tempo si muove in maniera lineare, ma questo è un concetto base che se fai business 101 è una delle prime cose che ti dicono, capisci? Sì, è un po' disarmante a volte confrontarsi con questo, perché dici all'estero sembra che funzioni tutto, in Italia è sempre così, ci lamentiamo, però bisogna anche fare qualcosa a un certo punto per dare una credibilità al nostro lavoro, perché io penso che, ti dico, la mia esperienza è quella di adesso aver cominciato da qualche mese a lavorare dall'Italia, ma già solo burocraticamente spiegare all'avvocato che ci faceva il contratto italiano cosa siamo, cioè, ma sei un illustratore? No, però sei architeto? No, ma che cacchio va? Ma non esiste come, ma anche quando ne parliamo, non lo so, a cena, a casa, coi pareti, cioè, cosa fai? Ah, vabbè, ma io... Sono architetto, a pasto, così... Tu figurati la mia posizione, dove la gente del tipo, per esempio, ha avuto un episodio divertente, un paio di... anzi, proprio ieri, dove ho parlato con un prospect client, che mi ha detto giustamente, questa è una cosa che vedi pure io, per esempio, si parla di quello che si sa e quello che non si sa. Io ormai lavoro da tre anni per word of mouth, come si dice, per passaparola, e quello che conta sono i risultati. Il cliente è contento, mi fa il referral, e sono comunque occupato, anzi, cerco di fare un pochettino di meno per costruire altri progetti, e nulla. Ieri poi mi è venuto qualcuno a dire, un prospect client, senti, ma io come faccio a confermare che tu effettivamente sai tutte queste cose? Io ci ho pensato, ho detto, ma tu lo sai che io sta cosa non l'ho mai dovuta spiegare a nessuno. Cioè, però in effetti mi ha fatto ragionare, perché a volte quello che noi ci dimentichiamo, come designer, se io lo dico sempre ai miei clienti, che noi siamo molto bravi a raccontare le storie dei nostri clienti, con le visuali, con un progetto di marketing, però a volte ci dimentichiamo di raccontare la nostra storia, capisci? Quindi è quello anche che magari può risultare in un problema del tipo. Mio padre, che mi chiama ogni giorno, mi dice, ma oggi che cosa hai fatto? E io gli dico, ho fatto questo. E mi dice, ma io ancora non capisco tu che fai. Ma me lo chiede ormai da otto anni. Sì, sì, dicevo che è un po' il bello e il difficile di una professione che è nata relativamente da poco e che non si studia, cioè che non c'è un diploma per prendere, no? Quindi ci sono dei master. Ci sono dei master, però comunque io quello che ancora tenderei a spingere un po' di più ci vorrebbero più attività proprio di dinamica che sta di, sai, mettere qualcosa a terra dove uno prova quali sono le dinamiche che succedono tra clienti. Perché poi noi artisti siamo mossi dall'ideale del fare qualcosa che abbia successo. Ti faccio capire. Se un cliente viene e dice, io con questo progetto qua posso vincere un appalto a disegnare una città, noi subito, Dio Pino, qual è il budget? Non ti preoccupare del budget, facciamo tutto. E a un certo punto si arriva due, tre mesi dentro al lavoro, che i soldi già sono finiti tre mesi e mezzo fa, diciamo, oh oh, non ce la facciamo più. Sì, sì. Non lo so, io sto cercando di capire un pochino cosa potrebbe interessare a me, perché nel senso a me quando ho iniziato, io ho iniziato da zero, sono architetto, ho detto voglio fare questo lavoro, ero a Berlino e ho cominciato da zero. Però, giustamente, tanti non è che prendono gente che sulla fiducia, secondo me, ce la puoi fare e ti dà questo lavoro. Io sono stata fortunata e ho imparato il lavoro. però ci sono ragazzi che magari escono da scuola in Italia e non sanno da dove girarsi. Ne parlavo con mio marito, abbiamo fatto la prima delle interviste. Lui lavora per Bloom Imagis. Conosco bene. Ecco, e appunto ci dicevamo che, vabbè, a parte che quando noi abbiamo cominciato eravamo quasi gli unici italiani e nel giro di due, tre, quattro anni, cioè nel mio ufficio ce ne sono sei adesso e quando sono arrivata ce ne hanno solo due. E anche nel suo ufficio lui era l'unico, adesso lo sento che fa telefonato in ufficio italiano spesso, quindi questo è un indice che stanno crescendo. E però ci sono tantissimi ragazzi, cioè, vabbè, io guardo sempre magari allo State of Art Academy perché mi pare che sia un'eccellenza in Italia, però informandomi un pochino, visto che ci sono anche tante altre scuole interessanti, però questi talenti vengono sfornati e poi mandati in giro per il mondo, nel senso che tanti non sanno da dove partire, poi magari informandosi bene si trova, però appunto io sto cercando di capire come funziona in Italia e quindi chiedo anche a te cosa ne pensi. Ma guarda, il discorso là è un pochettino differente perché ne parlavo proprio con una persona che lavora con una compagnia di consulenza grossa, grossa, grossa e loro si occupano solo di risolvere problemi grossi. Perché all'interno del mercato italiano risolvere i problemi piccoli non porta a nulla. Ora, il mercato italiano dà spazio a impresa grossa. L'impresa piccola ha tante frizioni ma non hai tanti agevolamenti. Quindi quello è un po' un problema. Il discorso è proprio questo, il cercare di capire se si può operare in maniera piccola e magari distribuire il lavoro tra un network di freelancers e quindi magari curare bene l'immagine di questo network senza creare una macchina troppo grossa che magari può entrare poi ed avere problemi con quelle che sono le condizioni lavorative in Italia. O si costruisce una macchina medio o grossa con la quale tu sai che comunque ci si può creare un certo movimento, una certa inerzia e continuare ad andare avanti. Questo è un pochettino, è un problema che non ha solo l'Italia. Io ho clienti in America Latina e in Sud America dove c'è comunque lo stesso tipo di crisi e il discorso politico è quasi lo stesso. Loro dicono a noi conviene far lavorare enti grossi che comunque ci danno altri tipi di problemi che comunque possiamo prenderci cura che non quelli piccoli. Quelli piccoli noi non li vogliamo, non siamo interessati e sembra un attimino essere l'attitudine del mercato italiano questa sia. È un problema, è un problema conosciuto ed è un problema che ti dico i clienti miei, quelli più di successo, mi chiedono sempre e ce l'hanno di lato nella pipeline, questo obiettivo di muovere le compagnie all'estero. Spagna per prima, perché la Spagna ha molte poche tasse, l'Olanda perché comunque noi rientreremmo come artisti e in Olanda ci sono delle tasse molto agevolanti per artisti e tenere un po' in pratica questo rapporto di pendolo tra l'Italia e l'Olanda o l'Italia e la Spagna, non è ideale, però noi dobbiamo anche… c'è Gary Vaynerchuk che è uno delle persone che seguo di più, motivational speakers, business coach, che dice tutti quanti hanno problemi, guarda adesso in America cosa sta succedendo. La responsabilità comunque rimane sempre nostra e siamo noi quelli che devono cercare di far funzionare le cose e una volta che tu riesci a raggiungere questo tipo di mindset, questo tipo di mentalità, poi vedi che comunque trovi sempre delle maniere per raggirare il sistema sia politico che economico, si trovano sempre. Il discorso è raggiungere questo mindset perché poi incominci a renderti conto che magari sì, la situazione politica è quella, il problema è quello, però trovi degli escabotage, capisci quello che ti voglio dire. Poi sì, mi rendo conto, questo è un pochettino di un out-out, può essere pure che tu hai una famiglia già, hai bambini, non ti puoi muovere. Allora a quel punto là uno dovrebbe essere maturo abbastanza per fare delle decisioni che hanno senso dal punto di vista economico, nel senso io voglio fare dell'arte, voglio produrre qualcosa di bello, però se non ce la faccio a mantenere la mia famiglia. Questa è la decisione giusta per il tipo di posizione sociale che io ho? No. Allora trovati un lavoro, fai l'arte la domenica sera quando tutti dormono e vedi cosa succede quando metti quell'arte online. Se riesci a fare anche un solo cliente che ti paga quello che tu ti meriti, allora tu non hai bisogno di avere un business perché puoi fare tranquillamente il tuo lavoro e cercare di costruire la tua arte di lato. Ma questa è una cosa che non te la devo insegnare io come business coach, tra virgolette, la dovresti capire tu avendo delle basi di economical understanding, di… mi capisci no? Economical understanding. Sì, di economia. Di economia, va. Chiedo scusa, sono vent'anni che non abito più in Italia, quindi… Ti facciamo fare un po' di allenamento. Vergogna, Fabio. Comunque, no, è interessante perché hai un punto di vista molto più ampio, nel senso che tanti che si approcciano a questo lavoro sono magari giovani o comunque vedono, appunto magari sentono le cifre che possono venire fuori da un'immagine però non capiscono cosa ci sia dietro, che è un po' quello di cui parlavate oggi con il fondatore di Engram perché non è tutto oro quel che luccica, c'è lavoro dietro, c'è tanta crescita continua e bisogna investire non solo economicamente ma anche il tempo. No, assolutamente, voglio dire, il discorso economico è molto facile da fare, sempre, perché tutti quanti adorano parlare di soldi e tutti quanti adorano l'idea che dobbiamo essere pagati di più, però tra il dire e il fare ci va di mezzo al mare, nel senso tu devi avere il tipo di servizio e di qualità del prodotto che deve essere il migliore al mondo e non deve essere il migliore al mondo secondo quello che pensi, deve essere il migliore al mondo obiettivamente, capisci? Solo quando tu raggiungi quella posizione ti puoi mettere sul mercato e poi offrire un tipo di servizio, perché anche quello, la cosiddetta crisi dell'impostore dove noi crediamo di essere i migliori però poi dentro dentro abbiamo un pochettino la paura di essere scoperti per non essere i migliori. Ora c'è gente che veramente vive con la crisi dell'impostore e c'è gente che ce l'ha perché comunque agisce in maniera umile. Ne ho parlato ieri ad un workshop con un tizio che guadagna, ci aveva detto 120.000 dollari al mese di fatturato e lui diceva io ho la crisi dell'impostore, però se effettivamente guardo i numeri di quello che faccio mi dico com'è che ho la crisi dell'impostore, perché mi sento così. Quindi sono tante cose. Io una cosa che consiglio di fare a tutti è leggere, ho fatto un video che si chiama la gerarchia dei bisogni, non so se si chiami così anche in italiano, l'autore è Maslow. In pratica qua si parla di stati sociali che si devono raggiungere per essere fulfilled, come si dice? Per essere soddisfatti. Ora quando si riesce ad arrivare, quando si riescono a check all the boxes, quando si riesce a dire ok stage numero uno fatto, stage numero due fatto, stage numero tre fatto, quando arrivi al top sei competitivo anche dal punto di vista economico e del tipo di prestazione che tu riesci a servire. E quello è un processo che io per esempio personalmente sono dieci anni, un pochettino di più, che faccio questo lavoro, che bazzico da una sfera professionale all'altra e ancora non mi sento al cento per cento che ho raggiunto, però comunque lo tengo sempre nella mia testa come punto di riferimento, capisci? Mentre molti quello che fanno è escono, vanno sul mondo del lavoro e cercano di farlo senza capire il significato di fare questo lavoro. Ora il problema è come dicevi tu, è che non c'è industria fatta bene in Italia che dia la possibilità di formare questi giovani talenti, quello è un problema che se tu dici ok questo è il problema, la soluzione è una, andarsene via, provare a farlo fuori o prendersi la responsabilità e dire lo provo a fare io. Però poi là giustamente si alza, si creano le domande. C'ho l'esperienza per fare industria da solo? No. Fa senso dal punto di vista economico? Maybe. Se hai parenti, famiglia ricca e ti possono aiutare con soldi e poi fare research and development e sbagliare? Allora magari. Se non ce li hai? No. Quindi vedi che tutte le box ti portano ad andare via all'estero. Capisci? Eh beh, è quello che abbiamo fatto tutti e due, quindi un motivo ci sarà. Sì, non è facile perché tanti non vogliono sentirselo dire. C'è anche chi ti dice che andare all'estero è la soluzione più semplice. Io quando sono andata via ho sentito di tutto. Eh vabbè, ma voi lasciate l'Italia, è comodo. Eh andateci voi. Io sono tornata perché non ne faccio più. C'è Tim Minchin che è un comico e parla anche tipo fa speeches di commencement alle università e lui dice le opinioni sono come il buco del culo. Tutti quanti ne hanno una. Il problema è che la devi controllare e molte volte questa opinione può puzzare. Quindi io mi rendo conto che tutti quanti vogliono dire la loro. Non lo so, alla fine quello che conta sono i risultati. Quelli che dicono che andare via dall'Italia sia facile. Io ho abitato a Londra per sei anni per studiare architettura. Sono invecchiato in quel periodo di dieci anni. Dovevo lavorare il lunedì, martedì, il mercoledì avevo lezione, il giovedì avevo lezione, il venerdì. Il sub in un ufficio di architettura. Il sabato e la domenica andavo a lavorare da Miss 60 a Carnaby Street come commesso. I soldi che guadagnavo pagavo 600 pound al mese di casa per abitare con cinque persone, uno cinese. Ora, se voi non lo sapete, i cinesi che vengono dalla Cina culturalmente non pensano che l'urina sia sporca. Quindi loro tipo per esempio fanno la pipì dappertutto e non puliscono. Queste sono le case che ti puoi permettere da studente. Se questo è facile, allora fatelo tutti, per favore. Sì, è dura perché veramente… Sento la rabbia che hai in queste parole, ma è positiva nel senso che comunque ti ha aiutato a crescere, però ti torna in mente tutta la fatica che hai fatto. Assolutamente. Lasciamo che dicano, comunque… Dopo tanto quando decidi di tornare in Italia, come è successo a me, ti dicono ma no, ma perché torni? Ma la stai lì? Decidetevi, devo stare qui o me ne vado. Io ho ancora gente che mi fa ma perché sei tornato? Vabbè, vabbè, vabbè. Così, così. Comunque, a parte questo, l'Italia ha tanti pro e tanti contro, però cerchiamo… Quello che cerchiamo di fare appunto è creare un po' di cultura, di questa… di awareness. Anche a me alcune parole faccio fatica a trovare. Come lo trovi? Sì, poi quella è un'altra cosa di… Se tu ti guardi Friends, awareness sarebbe unaghi. Unaghi. E quindi quella cosa lì stiamo cercando un pochino di fare e speriamo di riuscire a farla. Io, sì, intanto ti ringrazio perché hai detto tante cose che io non avrei mai detto, nel senso è bello di conoscere nuove persone e sentire persone molto più esperte di te, perché io ho cominciato questo lavoro relativamente da molto poco. E anche imparare tante cose, quindi vediamo dove porta questa strada. A me piacerebbe un giorno poter creare delle occasioni anche per incontrare persone che lavorano in questo settore in Italia, perché non lo so, poi magari tu mi dici, ma guarda che esiste già, e io dico, beh, meglio non ci vado. Però da quello che io ne so, di proprio tantissime conferenze in italiano dedicate solo a questo, ma anche siti, ci sono alcuni siti tipo 3D, che me ne viene in mente uno, però si parla un po' di 3D in generale, ma proprio dedicato alla visualizzazione dell'architettura c'è molto poco. Guarda, io sono dell'opinione che fare è sempre una cosa buona, il discorso è almeno che non decidi di incentrare la tua attività su questo tipo di attività, fai solo attenzione, perché effettivamente io per monetizzare, facendo la D2, mi ci sono voluti sei anni, e comunque la D2 è una nostra attività di marketing, perché a differenza di altre conferenze noi veramente investiamo tutto per raggiungere un livello superiore, però quell'investimento ci porta clienti, ci porta exposure, ci porta la possibilità di lavorare su cose molto più interessanti. È l'unico consiglio che ti voglio dare, poi ci sono persone che in Italia stanno facendo delle cose assurde, bellissime, ci vuole pazienza. Noi quando lavoriamo con i nostri clienti glielo diciamo sempre, tieni sempre in account almeno due anni, idealmente cinque, perché un'idea almeno che non inventi la nuova ruota non andrà mai in porto domani, ci metterà un pochettino di tempo. Per fortuna per me per ora è un hobby, quindi per ora non ho questo, ci investo del tempo, perché come dicevi tu quando ti hanno chiesto quanto ci metti a fare un video non è che lo fai apposta finita. Ah sì. La ricerca che ci sta dietro e poi il montaggio eccetera, però intanto grazie, smetti che un giorno funzioni meglio e io possa dedicarmi ci sarebbe interessante. No assolutamente, anzi quelli che, il discorso ti ripeto, a me da solo un'opportunità di crescita, perché comunque se il tuo network incomincia a crescere, grazie all'influenza che io ti ho dato, in una maniera o un'altra le persone saranno collegate a me e verranno a vedere quello che io faccio e possibili collaborazioni, possibili clienti usciranno anche da questo tipo di relazioni, capisci? Quindi io lo dico proprio in maniera positiva e senza patronizing, che non so come si dice in italiano, quindi. Non so neanche io. Senza guardarti da sopra, puntarti in via. Senza giudicare, ma giudicare in maniera, in maniera sì, superiori. No, lo so, lo so. Va bene. Beh, intanto grazie, grazie ancora. Di nulla. Vabbè, io saluto, non te però saluto e vediamo la prossima volta con chi potremo affrontare questi argomenti interessanti, che interessano a me, ma spero interessano anche a voi. Io ti ringrazio per avermi avuto nel tuo show. Grazie a te. Nel tuo varietà. Nel mio show varietà. Adesso noi rimaniamo qua a parlare di cani. Ciao a tutti. Ok, ciao, ciao.